eccoci qua 14 agosto al manacco oroscopo buone stati a tutti san alfredo compleanni raul bova l'attore è nato il 14 agosto nel 1971 un ex calciatore della nazionale della juve giorgio chiellini 14 agosto 1984 pronti con il nostro proverbio del giorno e poi l'oroscopo l'allegria è di ogni male il rimedio universale ariete un maggiore spirito di adattamento vi aiuta a superare qualche attrito nei rapporti di convivenza con i vostri familiari in amore siete vincenti conquiste a portata di mano curate di più la qualità della vostra alimentazione toro un imprevisto rivoluzionerà i vostri piani non dramatizzate in amore state attenti a non fare dei passi false non siate rinunciatari e appellatevi al vostro sesto senso gemelli ottime risorse intellettuali da mettere in gioco mercurio vi regala le giuste ispirazioni favoritissimi gli scambi e i contatti con ambienti nuovi venere vi rende assai ricettivi e malleabili nella comunicazione ci sarà possibilità di qualche contrasto in famiglia cancro originalità nelle idee e nel comportamento e il vostro spirito ribelle può non suscitare consenso in famiglia ma vi crea comunque seguito tra gli amici i rapporti affettivi si consolidano bene buone premesse per un dialogo costruttivo leone i rapporti affettivi esigono oggi assoluta priorità incontri nuovi in vista gli amici chiedono assiduità e disponibilità al dialogo attenzione ai disordini alimentari che sono sempre dannosi e potrebbero disturbare la buona forma fisica fate del moto vergine qualche contrarietà in famiglia ma una buona notizia farà ritornare presto il sereno controllate prima di accettarlo un invito in amore vi sentite stimolati dall'imprevisto bilancia oggi buona forma fisica e intellettuale e grande bisogno di esprimere in libertà la vostra carica vitale qualche angolo da smussare in famiglia e nel settore delle relazioni sociali dovrete assolutamente accettare un compromesso scorpione la vita affettiva attraversa un momento di trasformazione non lasciatevi tentare da complicazioni mentali e vivete liberamente l'intensità di un rapporto non dramatizzate poi un malinteso giove vi aiuterà ad ampliare le relazioni d'amicizia sagittario nuove conoscenze vi permettono di trovare incentivi per un dialogo più profondo e dinamico con chi vi circonda accettate ricambiate un invito per questa sera socializzare vi fa bene nella vita sentimentale sarete irresistibili un capricorno il bisogno di libertà vi fa assumere atteggiamenti ribelli in famiglia e anche in società comunque ci sarà chi sarà vostro alleato grande intensità nei rapporti amorosi dove una conquista vi gratificherà fortuna anche per chi viaggia acquario giornata davvero intensa e ricca di stimoli l'intraprendenza nei rapporti con gli altri porta nuovi amici favoriti i viaggi e gli scambi anche con l'estero qualche incoerenza nei sentimenti attenti a quelli che potrebbero dimostrarsi entusiasmi passeggeri pesci la giornata vi prospetta una battaglia da vincere le conquiste difficili vi stimolano in amore mettete in chiaro ogni cosa troverete un'eccellente intesa con il vostro partner